Buongiorno, bentrovati appuntamento di martedì 5 aprile 2016 con mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che apriamo con il Santo del Giorno che viene ricordato dalla Chiesa Cattolica proprio nella giornata del 5 aprile si tratta di San Vincenzo Ferreri, nacque a Valencia in Spagna il 23 gennaio del 1350 da Guglielmo Ferreri e Costanza Miguel, prima ancora che nascesse la madre aveva avuto un segno della futura grandezza di lui, perciò lo tenne sempre come dono speciale di Dio e come tale lo andava educando, frequentò le prime scuole nella Natia Valencia dove studiò la grammatica e la dialettica a 17 anni, vestì l'abito di San Domenico mostrandosi per tutta la vita un modello di osservanza religiosa spinto da celeste visione, domandò ed ottenne titolo e facoltà di missionario apostolico per cui Novello Paolo si diede a evangelizzare tutti i paesi più importanti d'Europa Spagna, Francia, Inghilterra, Italia, Germania, molto si aduparò per l'estinzione dello scisma d'Occidente per far convocare un concilio generale a questo scopo concilio che fu poi convocato nel 1417 a Costanza Dio fece molti miracoli per mezzo di San Vincenzo Ferreri a conferma della sua santa vita e predicazione Dio fece tante fatiche anche per riuscire a portare avanti le virtù di questo santo che avendo speso tutte le sue forze proprio per il servizio di Dio andò a ricevere il premio degli apostoli il 5 aprile del 1418 e dunque per questo proprio nella giornata del 5 aprile viene ricordato fu canonizzato nel 1453 da Papa Callisto III al quale ancora giovanetto Vincenzo Predicatore aveva profetizzato il pontificato e la propria canonizzazione per mezzo suo dunque questa è la storia in breve di San Vincenzo Ferreri noi apriamo la nostra consueta la segna stampa partendo dalle prime pagine del quotidiano Il Centro iniziamo con la prima pagina dell'edizione di Pescara vediamo quali sono i titoli principali siamo in centro strage di Pini protesta in centro città Pescara battuti 19 alberi in Viale Regina Margherita durante i lavori per la nuova pista ciclabile polemica di ambientalisti e residenti ma il vice sindaco del vecchio replica sono malati li ripianteremo e poi incredibile città Sant'Angelo sequestrata la tricomedit la fotonotizia che campeggia proprio nella prima pagina del centro poi vedremo nelle pagine interne cosa è accaduto e poi si parla ancora della difficile vertenza della Brioni Roman Style di Penne esito vicino comunque si continua a trattare ieri riunione fiume nella sede della regione in via Passo Lanciano a Pescara fino a tarda ora dal primo pomeriggio il vice presidente della regione Giovanni Lolla Lolli si mantiene ottimista dopo il vertice con l'azienda ci sono comunque dei problemi e lo stesso vice presidente della regione non ha nascosto proprio le difficoltà di questa trattativa di questa vertenza che comunque va avanti poi le altre notizie le cronache università senza luce sospese le lezioni e poi a Francavilla per seguita l'ex moglie viene arrestato e poi il calcio Pescara che si prepara alla trasferta di venerdì sera l'anticipo sul campo dell'Avellino al Partenio ci sono due brutte notizie una che riguarda il calcio giocato perché Campagnaro è di nuovo KO e rischia di restare fuori fino ai playoff oggi verrà effettuata una ecografia che dovrebbe chiarire proprio l'entità dell'infortunio del giocatore argentino e poi la decisione del CASMS Pescara al Partenio senza tifosi dunque vietata la trasferta ai tifosi biancazzurri lasciamo la prima pagina del centro edizione di Pescara andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Echieti poi come sempre vedremo anche le altre edizioni l'edizione di Teramo l'edizione di L'Aquila Avezzano e Sulmona andiamo a vedere intanto l'edizione di Chieti si parla della procura proprio teatina perché è sfida tra 22 magistrati Chieti per il dopo Mennini e dunque è corsa per prendere il posto di Mennini ci sono tanti magistrati molti abruzzesi ma anche di fuori Abruzzo che sono in lizza per questo prestigioso incarico e poi l'evento del Lions di Chieti il premio Chiarini fa felice Federica ex liceale modello poi le cronache di Lorenzo l'inchiesta è arrivata a capolinea parliamo dell'ex manager della Honda e poi Daico pugno di ferro sospesi i sindacalisti questa è la reazione dell'azienda e poi Cometa c'è l'accordo che salva gli stipendi parliamo dell'azienda di Casoli e poi Adatessa mi sento abbandonato accusa le istituzioni dopo il rogo del suo bar e andiamo a vedere ora la prima pagina del centro edizione di Teramo vediamo qual è il titolo principale che riguarda proprio l'edizione teramana del centro ecco qui la prima pagina nasce di sabile 1 milione dalla ASLE il giudice ha condannato l'azienda sanitaria a risarcire la famiglia di un ragazzo che ora ha 14 anni a causa di un errore medico non venne diagnosticata una grave sofferenza fetale e poi colpo al centro commerciale il grillo di Villa Rosa di Martinsicuro fanno un buco nel muro per arrivare alla sala slot e vedete proprio dalle immagini quello che è accaduto quello che sono riusciti a fare i malviventi dunque a forare a bucare questo muro le cronache politica la sfida di Brucchi arriverò al 2019 dice il primo cittadino di Teramo nell'intervista rilasciata al centro e poi Randi vende la PAP a un gruppo teramano e poi a Roseto entro il mese via al progetto Cosmo infine un'altra notizia di cronaca neumamma picchiata il compagno violento viene allontanato dal PM chiudiamo con il centro per quanto concerne il quotidiano d'Abruzzo vediamo l'ultima prima pagina questa volta dell'edizione di l'Aquila Vezzano sul Mona ovviamente tutti i titoli riguardano l'anniversario che ci sarà domani del terremoto dell'Aquila e dunque sono state allestite diverse cerimonie proprio per ricordare questa tragedia l'Aquila il giorno del ricordo sette anni fa il sisma che provocò morte e distruzione questa sera la fiaccolata in memoria delle 309 vittime l'appello del sindaco Cialente alla città per una forte partecipazione alla commemorazione e poi vedete Taglio del Nastro inaugurato a Barette l'ospedale psichiatrico giudiziario vedete anche al Taglio del Nastro la presenza dell'assessore alla sanità della regione Silvio Paolucci e poi le cronache sgomberi il comune comincia da sassa parliamo dei crolli al progetto case e poi il monito del Vescovo Spina no i voti di scambio poi l'incidente di preturo elicottero caduto pilota evita la tragedia poi la cronaca cocaina in auto un arresto albanese inseguito e fermato ad un posto di blocco allora possiamo lasciare le prime pagine del centro abbiamo visto le quattro edizioni proprio del quotidiano d'Abruzzo direi di passare lo faremo tra qualche istante al messaggero per andare a vedere anche qualche titolo di carattere nazionale proprio dal quotidiano romano partendo proprio dalla prima pagina si parla di questioni di governo il PM dalla Boschi Renzi Listriglia Caso Petrolio il ministro sentito per due ore dai magistrati di Potenza io sempre corretta ha detto il ministro Boschi e poi paradisi fiscali le entrate chiedono i dati degli italiani parliamo della vicenda Panama Papers pioggia di smentite ira di Putin manovra degli Stati Uniti dice Putin vediamo nelle pagine interne la Boschi e PM quando si scrive una legge è normale avere certi incontri ha detto il ministro e poi quel messaggino a Matteo tutto bene a Sera Mari si concede una cena carioca pagina 3 Guidi indicò l'uomo di Gemelli come consulente del ministero parliamo dell'ex ministro che indicò proprio fece questa indicazione la rete della Cricca sul Mise agli atti della Camera le lettere per favorire il piano navale spuntano ombre sul voto delle primarie dei democratici in Basilicata disposte nuove indagini e poi in basso il premier Renzi fiducia a Descalzi l'amministratore delegato di Eni non siamo avvelenatori dunque arriva la fiducia per il massimo dirigente dell'Eni da parte del governo e poi la sfida di Renzi PM di potenza mai a sentenza io sblocco opere a fondo in direzione se è reato continuerò a commetterlo attacco a sorpresa della minoranza Cuperlo non hai la statura del leader dunque questa è anche l'occasione per tornare alle polemiche interne al partito democratico poi in basso ingorgo di mozioni di fiducia al senato ma tra le opposizioni e tutti contro tutti vedete nella foto Luigi Di Maio esponente del Movimento 5 Stelle ieri nella manifestazione che si è tenuta proprio a Vigiano in Basilicata il premier vede un disegno organico ma non vuole la guerra con le toghe Palazzo Chigi teme possibili manovre contro l'esecutivo i verdetti siano rapidi e poi Mattarella non crede a crisi di governo dubbi su De Vincenti ministro resti dov'è? c'è anche a questo punto da sostituire il ministro Guidi siamo alla politica internazionale la Grecia rimanda i migranti in Turchia scattato il piano dell'Unione Europea di Ancara a prime espulsioni da due isole all'alba di ieri trasferiti in 202 ma ne arrivano subito altri 339 poi più in basso la Germania accoglie 32 siriani gli altri rifugiati non entrano più proseguiamo paradisi fiscali bufera sui leader il cremelino attacca manovra della CIA a tenere banco e lo scandalo Panama Papers e poi c'è questa intervista a Eugenio della Valle che dice c'è illecito penale solamente se nascondi il reddito al fisco e l'agenzia delle entrate vedete nella pagina seguente vuole i nomi degli italiani il fisco si attiva per ottenere i documenti la procura sta valutando se aprire un'indagine rientro di capitali 150 milioni da Panama Montezemolo nessuna società offshore proseguiamo Roma il centrodestra si muove e accelera sul candidato unico si parla delle elezioni per il nuovo sindaco patto tra i leader entro il 15 la decisione per dipanare la matassa Bertolaso tentato comunque dal ritiro proseguiamo in questa pagina c'è l'intervista all'amministratore delegato di poste italiane Francesco Caio che dice poste pronte a investire in infrastrutture in Italia e poi cronaca nazionale ed internazionale caso Reggeni rinviato il vertice con la procura del Cairo scontro interno in Egitto l'incontro eslittato non prima di giovedì 7 aprile e poi Libia e il Pentagono già prepara la lista degli obiettivi da colpire e poi guerra in Armenia il Papa anticipa la visita a giugno ci sarà infatti una visita di tre giorni la diplomazia vaticana voleva una tappa in Azerbaijan ma Francesco ha detto di no falsi modigliani guerra Italia-Svizzera questo è il titolo che apre pagina 15 la procura di Roma chiede la rogatoria ai magistrati di Lugano sui disegni sospettati di essere contraffatti ma non ottiene risposta le opere sequestrate a Chiasso dunque al confine l'esperto che le ha certificate come utenti che resta depositario dell'archivio dell'artista e poi Roma giudizio giudizio abbreviato per il PR accusato di sesso con minorenni andiamo ancora avanti scuola premi di merito a un insegnante su dieci e scontro sulle regole a giugno arrivano i bonus per i professori più bravi i sindacati sul piede di guerra incertezza sui comitati di valutazione poi economia il potere d'acquisto riparte dopo otto anni complice a un tasso di inflazione vicino allo zero la capacità di spesa delle famiglie italiane è cresciuta dello 0,8% nel 2015 e poi banche salvate via alla gara per la cessione delle sofferenze pronto il bando per selezionare l'advisor dei crediti anomali o delle società REV e poi l'ultimo titolo che riguarda l'economia Asse Telecom Vivendi sui serial tv il gruppo francese produrrà una miniserie miniserie televisive vendute in esclusiva ai clienti con cellulare team allora noi siamo sul messaggero approfittiamo per iniziare a vedere proprio dal quotidiano romano le pagine che riguardano la cronaca d'Abruzzo poi passeremo al centro e come sempre intorno alle 7.20 apriremo la consueta pagina dedicata al meteo siamo comunque ancora al messaggero cronaca d'Abruzzo in questo caso la prima pagina si apre con l'Aquila e la notte della fiaccolata il settimo anniversario del terremoto tra dolore e ricordo il capoluogo prova ad alzare lo sguardo le parole dei bimbi della generazione sisma non andremo via mai la vicinanza del presidente della Repubblica Mattarella e poi Project Maltauro per l'ospedale l'Asle Chieti cerca un super esperto si parla in questo caso di sanità e poi Lingotti e Diamanti la banda della Mola colpisce a Chieti raid a ora di cena in una villa di Brecciarola aperta alla cassaforte bottino sui 25 mila euro e poi anche sul messaggero come abbiamo visto sul centro si parla di questa strage di Pini così viene definita in questo titolo del messaggero in Viale Regina Margherita e le comune piante pericolose saranno sostituite andiamo ancora avanti Confindustria l'Aquila dopo la bufera così abbiamo speso quei soldi la gogna su report per i fondi donati dopo il sisma e mai rendi contati il presidente Ballone vuole chiarezza ma la lista adesso è spuntata e poi vedete quest'altro titolo di spalla regione senza piano di rischio sismico Mazzocca lo stiamo aggiornando queste le dichiarazioni di Mazzocca che la delega proprio anche riguardo la protezione civile e poi in basso a fondo pagina Marte di Nero Pescara al Buio Teramo senza acqua niente lezioni università bloccate torniamo al centro andiamo a vedere anche sul centro le pagine che riguardano la cronaca della nostra regione e anche come sul messaggero la prima pagina si apre con il richiamo della protezione civile del capo in questo caso della protezione civile Fabrizio Curcio che dice emergenze Abruzzo senza un piano solo Umbria e Calabria sono pronte ha detto il numero uno della protezione civile italiana il sottosegretario Mazzocca risponde stiamo lavorando da un anno per aggiornarlo e poi di spalla ambientalisti torna l'allarme inceneritore poi vedete in basso ci sono altri titoli giovedì a Pescara vendere in Cina ci sarà un seminario per gli imprenditori a cura della Banca Popolare dell'Emilia Romagna poi l'Aquila in consiglio nomina del difensore civico e del garante dei detenuti e poi scuola intesa su formazione finanziaria in classe andiamo ancora avanti c'è una pagina che riguarda l'economia in questo caso nazionale il potere d'acquisto positivo dopo 8 anni più 0,8% rispetto al 2014 poi arriviamo proprio alle pagine di Pescara del centro allora prima di parlare di meteo possiamo dunque incominciare a leggere insieme le prime pagine della cronaca provinciale proprio dal quotidiano d'Abruzzo partiamo dalla cronaca di Pescara perché vedete questa doppia pagina questa pagina passante che parla proprio di questa vicenda il comune abbatte 19 alberi in viale Regina Margherita protestano residenti e ambientalisti il vice sindaco del vecchio risponde sono malati li ripianteremo e per rifare la strada il centro chiude negozianti furiosi rifornitori rimandati indietro vie e negozi restano deserti i commercianti un disastro servono accessi alternativi e in questo articolo vedete ci sono anche delle interviste ai negozianti che hanno manifestato come abbiamo visto anche dal titolo la loro contrarietà proprio a queste chiusure anche per i lavori sulle strade che penalizzano il commercio in questo caso i commercianti andiamo avanti tassa sui turisti sbloccata le commissioni dicono sì la maggioranza prova la delibera per l'applicazione della nuova imposta giovedì il voto in consiglio comunale ma l'opposizione riapre la polemica e poi altri titoli lavori dell'ACA via Gran Sasso reflui al depuratore poi le tessere omaggio per gli autobus sospese da quattro mesi questa la denuncia che arriva dai consiglieri comunali della lista Teodoro per Pescara Massimiliano Pignoli e Pier Nicola Teodoro proprio nei giorni scorsi avevamo sentito i due consiglieri comunali proprio su questa vicenda e poi salta l'arrivo a Pescara dell'ambasciatore americano ma lo sciopero della fame dei precari di Attiva non si ferma e ieri i due interinali si sono sentiti male e poi la nuova opera sul fiume il Ponte Nuovo fa un passo avanti la campata avanza di 7 metri entro fine estate sarà completata vedete proprio la zona dei lavori ieri il sopralluogo del sindaco Alessandrini e del vice sindaco Enzo Del Vecchio proprio nella zona dove si stanno effettuando i lavori per il Ponte Nuovo e siamo ai redditi del 2014 i pescaresi ricchi per il fisco sono 857 nel capoluogo adriatico il reddito medio è di quasi 21 mila euro ma con la provincia si scende sotto i 14 mila i più poveri sono a Corvara piccolo centro proprio in provincia di Pescara andiamo ancora avanti blackout improvviso università senza luce i ragazzi a casa al buio aule uffici e biblioteca il rettore sospende le lezioni per oggi ma i dipendenti dovranno comunque andare al lavoro e al liceo Marconi il 19 aprile al via il corso di lingua araba poi l'ultima notizia per quanto riguarda questa pagina studenti a lezioni di guida sicura niente cellulare alcol e medicine sono dunque le 7 e 20 direi che possiamo aprire la consueta pagina questa volta con grande puntualità proprio pagina dedicata al meteo come sempre con il nostro meteorologo Giovanni De Palma per conoscere insieme le previsioni per i prossimi giorni per le prossime ore anche soprattutto per la giornata di oggi come abbiamo potuto vedere nelle ultime ore l'Abruzzo Pescara diverse zone soprattutto della costa sono state tra virgolette colpite dalla nebbia e noi per saperne di più chiediamo proprio al nostro Giovanni De Palma che vado a salutare Giovanni buongiorno buongiorno Paolo buongiorno a te e a tutti i telespettatori come direbbe Giovanni Leopardi nebbia sugli irticolli a Pescara ma non solo a Pescara oggi ieri nelle ultime ore questo fenomeno che non è sicuramente inedito ma neanche comunissimo della nebbia perché in questi giorni c'è così tanta nebbia anche nelle ore centrali del giorno soprattutto in riva al mare Paolo sì perché la nostra regione è interessata è protetta da una vasta area di alta pressione che si stende soprattutto sull'Europa orientale ma nei giorni scorsi fino all'altro ieri siamo stati interessati dalla risalita di masse d'aria calda di provenienza nordafricana e la risalita di queste correnti sciroccali tendenzialmente calde più calde rispetto alle temperature superficiali dei mari poi ha favorito appunto grazie al raffreddamento a causa delle temperature dei mari più basse la condensazione quindi la formazione di questi strati nebbiosi che poi complici i venti orientali hanno raggiunto la fascia costiera ma si spingono fino sulle zone collinari prossime alla costa questa è la situazione attuale non cambierà di molto perché continua ad essere presente quest'area di alta pressione che ovviamente favorisce ancora una certa persistenza della nebbia lungo la fascia costiera sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriate ma soprattutto le zone collinari prossime alla costa mentre sulle restanti zone il cielo è sereno poco nuvoloso anche se ci sono annuvolamenti e nubi alte stratificate in mattinata le temperature sono ben più alte rispetto alla fascia costiera nelle prossime ore però non si escludono soprattutto durante le ore centrali della giornata nel corso del pomeriggio addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi localmente associati a delle precipitazioni questo in perfetto stile tardo primaverile insomma potranno formare addensamenti cumuliformi cosiddetti addensamenti cumuliformi che potrebbero dar luogo a delle precipitazioni molto localizzate però sui rilievi la tendenza è poi verso una graduale attenuazione della nuvolosità in serata e nottata torneranno ad intensificarsi le nebbie poche novità nella giornata di domani ancora elevata probabilità di nebbie lungo la fascia corsiera però nel corso del pomeriggio se da un lato al mattino avremo condizioni di cielo poco nuvoloso parzialmente nuvoloso sulle restanti zone durante le ore centrali della giornata nel corso del pomeriggio tenderanno a formarsi degli addensamenti consistenti sulle zone montuose in estensione verso l'Aquilano e verso la Marsica con possibilità di locali acquazzoni questo è un chiaro segnale di cambiamento Paolo perché nella giornata di mercoledì ma ancor più da giovedì assisteremo a un peggioramento del tempo perché sta formando una circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale e sull'entroterra algerino che pian piano tenderà poi a spostarsi a riserire verso la nostra penisola tra giovedì e venerdì favorendo un nuovo peggioramento del tempo con delle piogge localmente anche a carattere temporalesco sulla nostra regione con tempo instabile che poi continuerà a manifestarsi probabilmente anche nella giornata di sabato questa è una situazione da segnalare quindi ci sarà un coinvolgimento un'estensione di questo maltempo anche nella giornata di sabato insomma cambia il tempo però poi c'è da segnalare Paolo invece una possibile rimonta dell'alta pressione di matrice nordafricana soprattutto nei primi giorni della prossima settimana ipotesi che se confermata ma è altamente probabile che ciò accada porterebbe le temperature a un nuovo aumento delle temperature con valori ben al di sopra delle medie stagionali valori che arriverebbero a essere quasi quasi estive le temperature massime previste nel corso della prossima settimana questa è una tendenza ovviamente da confermare ed analizzare nel corso dei prossimi giorni Paolo Perfetto grazie Giovanni sei stato davvero più che mai esaustivo anche con queste belle notizie che prevedono proprio per i prossimi giorni dopo la nebbia il bel tempo e temperature quasi estive saranno contenti coloro che vogliono approfittare per le prime tintarelle io ti ringrazio buona giornata e buon lavoro appuntamento con te domani sempre nel corso di mattino sei buona giornata grazie Paolo una buona giornata anche a te e a tutti i tre spettatori di tv sei bene ringraziamo Giovanni De Palma vi ricordo il sito internet di riferimento www.abruzzometeo.org per restare sempre aggiornati sulle previsioni del tempo grazie al nostro meteorologo Giovanni De Palma e poi anche la pagina facebook che potete utilizzare anche per interagire con il nostro meteorologo Giovanni De Palma noi torniamo alle pagine del centro nebbia che ha offuscato anche il sottoscritto perché la poesia la nebbia piovinginando sale negli articoli ovviamente di Giuseppe Carducci e non di Leopardi noi torniamo però alle vicende di casa nostra torniamo a vedere a leggere insieme le pagine del centro eravamo sulla cronaca di Pescara e proprio parliamo in questo caso di cronaca nera in fuga dai domiciliari perseguita la ex siamo a Francavilla 37 anni arrestato dopo aver rotto il braccialetto elettronico aveva un'asta metallica di 90 centimetri e poi a Pescara deve scontare una pena di due anni esce dall'ospedale e viene arrestato in basso non ha discriminazioni negli stabilimenti dopo il caso Alcione parla il comandante della Capitaneria spiagge e divieti non decide il balneatore è proprio ancora su questa pagina ancora la cronaca che arriva da Pescara e provincia norme sismiche genio civile paralizzato uffici intasati da un arretrato di 800 pratiche protesta della federazione regionale degli ingegneri andiamo ancora avanti a vedere insieme la prossima pagina che riguarda la cronaca di Pescara e dell'area metropolitana in questo caso siamo a Manoppello spaccio di cocaina nei guai giovane incensurato 29 anni a bordo di una BMW segnalato seguito e bloccato dai carabinieri aveva 2,7 grammi di droga arresto convalidato e rimesso in libertà poi in alto addio l'addio oggi a Pepino storico balneatore di Francavilla e poi San Giovanni Teatino Cutrupi del Movimento 5 Stelle piano regolatore dice da invalidare infine Francavilla sempre per quanto riguarda questa pagina piazza Sant'Alfonso ripartono i lavori di riqualificazione allora noi ci fermiamo per qualche istante poi torneremo in studio come sempre per la seconda parte di mattino 6 di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 siamo alle pagine di Montesilvano e della provincia di Pescara vediamo il titolo principale di questa pagina del centro che riguarda la cronaca rubano un camion carico di merce e poi spariscono banda di 5 persone ripresa dalle telecamere di una ditta di trasporti filmata la sequenza del furto adesso indagano i carabinieri e poi ancora Montesilvano strade Colabrodo nessuno ascolta i disagi nei quartieri l'SOS del Movimento 5 Stelle poi cibi freschi conservati a ristorazione la mare rileva la Deal di Elice in basso spiaggia bandiera verde scontro l'amministrazione plaude per il riconoscimento Ruggero ma il mare è pulito questa la domanda che si pone il consigliere di opposizione del comune di Montesilvano siamo ancora in provincia di Pescara a Città Sant'Angelo manca l'autorizzazione in Aschiudono Tricomedit la clinica per il trapianto dei capelli sottoposta a sequestro il via le indagini dopo un sopralluogo dei carabinieri nella struttura sanitaria poi siamo a Pianella la consigliera Gian Sante rifiuta le deleghe del sindaco Maretta nella maggioranza ancora Montesilvano giochiamo col riciclo i bimbi e la lotta all'inquinamento questa iniziativa che è stata presentata proprio nella città adriatica e poi in basso spoltore una stagione storica per lo spoltore calcio la squadra del presidente pompa sale per la prima volta in promozione con cinque turni di anticipo vedete la festa per il salto di categoria della formazione spoltorese e siamo alla vertenza Brioni Roma Style ancora tanti nodi ma il vicepresidente della regione Giovanni Lolli è ottimista ieri riunione incontro fiume in regione in via Passo Lanciano a Pescara e nel corso di questa riunione dopo tre ore di lavoro tecnico i dirigenti dell'azienda hanno incontrato a parte l'amministratore regionale esito vicino comunque si va avanti scettici i sindacati che parlano di accordo ancora lontano ma come detto il vicepresidente della regione Giovanni Lolli è tutto sommato ottimista noi ieri eravamo con le nostre telecamere proprio nella sede della regione in via Passo Lanciano andiamo a vedere il servizio si fa in salita la vertenza Brioni Roma Style nella sede della regione Abruzzo in via Passo Lanciano a Pescara si è andati avanti ad oltranza dopo ore d'incontro la rappresentanza della proprietà ha abbandonato il tavolo comune di lavoro per incontrare separatamente il vicepresidente della regione Giovanni Lolli che non nasconde le difficoltà della trattativa spero che noi possiamo uscire questa sera da questa complicatissima trattativa non con la soluzione finale questo non c'è ancora ma con un ulteriore passo di avvicinamento verso una soluzione accettabile vorrei comunque spiegare ai cittadini abruzzesi che stiamo parlando di un dramma che riguarda centinaia anzi quasi mille persone perché vedersi ridotto l'orario di lavoro con la conseguenza riduzione di salario non è una soluzione bellissima e comunque alla fine alcune persone spero il meno possibile andranno a casa se poi noi riusciamo a fare a ottenere il risultato che vogliamo cioè che si vada a casa solamente quelli che diciamo ci vanno attraverso una decisione volontaria e con un incentivo naturalmente è una cosa meno dura ma è comunque una cosa dura che nasce naturalmente dal fatto che c'è una crisi reale non è che qualcuno qui sta giocando e io penso che se comunque alla fine ciascuno rinunciando a una a qualcosa dal suo punto di vista riusciamo a trovare un accordo questo comunque per il territorio è meglio perché se non si trova un accordo la vedo veramente pesante una volta che abbiamo messo in campo una volontà una mobilità volontaria e tutto il resto qualora dovesse essere accettata non da tutti i lavoratori contenuti nel perimetro cosa succede a quei lavoratori che non lo accettano questo è il punto della questione che stiamo discutendo che come voi capite si tratta di esseri umani quindi è un punto molto molto serio intanto i sindacati puntano ad un incontro risolutore nella sede del ministero a Roma Labrioni si è ritirata nelle stanze dell'assessore perché praticamente ovviamente la trattativa ha preso una bruttissima piega purtroppo per certi versi siamo tornati un po' indietro stiamo continuando a trattare adesso dobbiamo valutare la situazione e eventualmente convocarci di nuovo a Roma non siamo in grado al momento di dire se c'è una soluzione in questo momento noi speriamo che ci sia entro questa sera questo dunque nel servizio che fa il punto proprio della vertenza Brioni nelle prossime ore ci saranno ovviamente altre novità che noi vi daremo e che seguiremo parliamo ancora di cronaca dalla provincia di Pescara caserme carabinieri ecco i soldi la regione destina 900 mila euro a Manoppello e 700 mila euro a Loreto a Prutino poi ad Alanno la fiera dell'agricoltura ricorda il professor Annigoni infine bussi quattro escursioni nella natura con il bosso proseguiamo andiamo avanti e siamo alla pagina di Chieti del centro 22 magistrati in corsa per la procura teatina il PM del mistero Regeni punta a venire a Chieti ecco tutti i nomi del dopo Mennini alla procura della Repubblica teatina rispunta la Rosi che cambiò negli anni 90 la geografia politica della città in basso Di Lorenzo inchiesta vicino alla chiusura tra le ipotesi di reato potrebbe scattare l'associazione per delinquere per l'ex manager della Honda e poi vicenda da Aico sospesi i sei lavoratori sindacalisti e siamo alla pagina dell'Aquila in questo caso però siamo dell'Aquila e provincia siamo ad Avezzano in Marsica Bulli a scuola ricatti a Coetaneo creano un profilo facebook di una finta spasimante lo convincono a spogliarsi poi scatta l'attentata estorsione elicottero caduto a pretura una manovra eroica salva il passeggero e poi barete aperto l'ospedale psichiatrico in basso la notizia più importante riguarda ovviamente l'Aquila che ricorda i 309 martiri del sisma sette anni fa il terremoto stasera ci sarà la fiaccolata in piazza Duomo la lettura dei nomi delle vittime noi andiamo ad ascoltare proprio su questo ricordo che ci sarà del terremoto nell'intervista di Elisa Leuzzo il presidente del consiglio regionale d'Abruzzo in occasione del settimo anniversario del sisma che il 6 aprile 2009 sconvolse la città di L'Aquila e altri comuni della regione sono previste nel capoluogo due giornate commemorative il 5 con partenza ore 22 dall'altezza via 20 settembre palazzo della giustizia fiaccolata per l'Aquila il giorno dopo una serie di manifestazioni dove partecipa la presenza del consiglio è quella delle ore 22 il 5 alle 11 la santa messa ufficiata dal vescovo dell'Aquila alle 14.30 start up marcia per l'Aquila con partenza guardia di finanza intanto i presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome hanno rinnovato il patto di solidarietà che vide le regioni italiane collegialmente impegnate accanto alla sofferenza al disagio materiale e spirituale delle popolazioni abruzzesi e di quelle di ogni regione segnata da calamità naturali già nel giorno 1 e 2 la presenza del consiglio ha organizzato una plenaria a tutte le regioni d'Italia raccolte all'Aquila dove abbiamo approvato un documento anche che rinnova il patto di solidarietà quando accadono eventi così importanti ricordando soprattutto il sisma dell'Aquila del 6 aprile 2009 dove tutte le regioni accorsero in segno di solidarietà non solo a parole ma con i fatti qui e lì abbiamo invitato anche i presidenti delle altre regioni a voler partecipare il giorno 5 alle ore 22 a questa marcia per l'Aquila seguiremo ovviamente nelle prossime ore nei prossimi giorni domani tutte le manifestazioni che ci saranno proprio all'Aquila per ricordare il sisma del 2009 queste 309 vittime siamo alla pagina di Teramo del quotidiano Il Centro una battaglia lunga 8 anni e poi la sentenza nasce di sabile la ASL paga un milione il Tribunale Civile condanna l'azienda a risarcire un ragazzino di 14 anni a pagare i genitori che lo accudiscono necessaria una nuova perizia scontro fra aerei è morto il consulente della procura parliamo dell'incidente che c'è stato proprio qualche mese fa a Tortoreto nel quale ha perso la vita il pilota 47enne di Siena Marco Ricci andiamo ancora avanti a fondo pagina cronaca Martinsicuro i ladri fanno un buco nel muro per scazzinare le slot machine poi a Isola del Gran Sasso botte alla Neomam allontanato padre violento bloccato su richiesta della giovane abbiamo terminato per quanto riguarda la lettura delle pagine provinciali del centro andiamo ora al messaggero ripartiamo anche in questo caso da Pescara e c'è l'apertura come sul centro che riguarda questa notizia strage di pini la città si ribella è cominciato ieri l'abbattimento di 19 esemplari pericolanti in Viale Regina Margherita e sui social subito dilaga la protesta il chiarimento del comune che dice saranno sostituiti con piante giovani e sane anche gli esemplari crollati dopo neve e pioggia riparazione record liquami nel fiume dopo il guasto di una fogna H al lavoro e poi opposizioni scatenate decisione assurda vanno ascoltati i pescaresi si parla sempre della vicenda degli alberi il forum H2 contesta la mancanza di trasparenza il consigliere regionale di Forza Italia Sospiri dice voglio vedere le carte e poi il comune ha torto paghi e zitto la provincia all'attacco per il debito milionario del centro per l'impiego dunque c'è questa lite tra comune e provincia e poi la cronaca niente autorizzazioni sigilli del NAS al centro Tricomedit proseguiamo velocità precedenza e casco così le due ruote uccidono nel 2014 20 le vittime di incidenti Ania e polizia stradale insegnano ai ragazzi di Pescara le buone pratiche della guida e poi il referendum si accende la campagna sinistra ecologia e libertà denuncia una aggressione e poi 4 aprile con la nebbia il proverbio non vale ne abbiamo parlato poco fa con il nostro meteorologo Giovanni De Palma e vedete in questo articolo proprio l'intervista del giornalista del messaggero al nostro Giovanni De Palma tranquilli solo sole e pioggia condizionano i 40 giorni successivi Giovanni De Palma nostro meteorologo parla proprio di questo fenomeno di cui stavamo parlando anche noi qualche minuto fa proprio della nebbia soprattutto nelle zone rivierasche della nostra regione ancora pagina di Pescara e area metropolitana palto aggiustato per un'assunzione corruzione turbativa d'asta frode in pubbliche forniture e falso le accuse per i dirigenti del comune dell'azienda CIR al capolinea lo scandalo delle menze scolastiche in cambio di risparmi sul capitolato l'impresa assicurò un posto di lavoro e poi Brioni la trattativa si arena sui salari abbiamo visto il servizio da una parte vede comunque spiragli il vicepresidente della regione Giovanni Lolli che abbiamo ascoltato i sindacati ovviamente puntano a qualcosa di più la trattativa va avanti anche se ovviamente ci sono delle polemiche ma soprattutto dei problemi che non ha negato neanche il vicepresidente della regione poi il matrimonio del food Lamar acquista la PAC per 36 milioni l'azienda di Elice fondata dalla famiglia Mascaretti passa sotto il controllo del gruppo Cremonini e poi Francavilla minaccia la ex moglie del compagno arrestato siamo alla pagina dell'Aquila del quotidiano il messaggero dopo i balconi il caos bollette non c'è pace al progetto case il pezzo crollato non era stato incollato tutti i chiodi sbriciolati dalla ruggine a giorni la procura si appresta a chiedere il rinvio a giudizio per 27 dei 37 indagati e poi barete inaugurata la residenza per detenuti psichiatrici e poi la cronaca cocaina un arresto e tre denunce dei carabinieri in basso si parla di lavoro la CISL meno lavoro in mano d'opera irregolare e l'allarme nei cantieri andiamo a vedere ancora qualche notizia di cronaca sempre dall'Aquila un'auto rubata trovata bruciata proseguiamo pagina 43 del messaggero il senso della fiaccolata sette anni dopo stasera le 22 del tribunale la partenza del corteo silenzioso nell'anniversario del terremoto del 6 aprile abbiamo ascoltato anche nell'intervista di Elisa Leuzzo proprio il punto sulle iniziative che ci saranno e anche le impressioni del presidente del consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio il sindaco Cialente dice non va abolita ma diventi la giornata nazionale della sicurezza e poi in basso la generazione terremoto non vogliamo andare via da qui proseguiamo pagina di Avezzano Sulmona Biomasse il comune varre il progetto Salviano riserva anticentrale poi tagliacolso appalti truccati al via gli interrogatori civita d'altino vasto incendio devasta un bosco a Sulmona Chiavaroli dice tribunale fermare la spogliazione il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli ha incontrato Di Benedetto nessun taglio alla scuola di polizia siamo a Chieti spariti diamanti lingotti e buoni la banda della mola in azione e poi teatro e servizi ecco 25 parcometri e tariffe più basse palatricale blitz del NAS tra il comune e le società di atletica scoppia la pace niente stangata e poi in basso la corsa al nuovo procuratore della Repubblica spunta anche Elisabetta Rosi e poi la vertenza della Daico che sospende sei sindacalisti proseguiamo pagina di Lanciano Vastortona cometa senza stipendio rischiano il posto in 55 dopo l'incontro fra le parti lo sciopero è stato sospeso ieri pomeriggio Manzi della Wilm dice i dipendenti sono stremati ancora Lanciano cade lampadario e portici sfiorata la tragedia e poi ai funerali del marito ascensore in tilt volontari trasportano l'anziana ancora Lanciano sedie rotte al palazzo di giustizia va in scena la protesta degli avvocati Abbasto il parcheggio pubblico trasformato in un bivacco siamo a Teramo distribuzione pasti alla ASL i licenziamenti si riducono i dipendenti protestano sotto la finestra del manager Fagnano in via Ragusa Corso San Giorgio dei commercianti l'ok alla chiusura e poi procura il lutto muore il consulente Tarcisio Carollo tempi lunghi per lo schianto dell'air show a Tortoreto in basso Izzo stasera il comunale chiude la stagione di prosa e poi papà minaccia moglie e bambino il dramma l'uomo di 33 anni probabilmente era alticcio indagano i carabinieri di Isola del Gran Sasso e poi la pagina di Giulianova Roseto Val Vibrata firmato il contratto per la nuova caserma forse sarà più piccola siamo a Giulianova potrebbe non bastare il milione e mezzo della regione ma tutti sono soddisfatti compresi i consiglieri di minoranza vedete nella foto la firma del presidente della regione Luciano D'Alfonso e del sindaco di Giulianova Mastro Mauro ancora Giulianova Movimento 5 Stelle che dice e chiede le dimissioni del sindaco per quanto riguarda il bilancio Martinsicuro buco nella parete svaliggiata la sala slot e poi il rogo della Italpanelli di Ancarano doppio tavolo per esaminare sicurezza ed ambiente e poi Roseto Norante incompatibile oggi la parola passa al Consiglio Comunale siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo però andare a vedere insieme le pagine invece del quotidiano la città di Teramo e poi parleremo proprio di sport per vedere quali sono le novità in casa delle nostre formazioni alla vigilia della prossima giornata di campionato vi ricordo che il Pescara giocherà in anticipo venerdì alle 20 e 30 al Partenio di Avellino ma siamo al quotidiano la città di Teramo vediamo la prima pagina ricorso al Tar contro il depuratore Tortoreto impianto e insalubre nuove famiglie chiedono di rispettare le norme sulla distanza delle case andiamo a vedere le pagine interne cronaca regionale l'Aquila in centro arriva il tunnel intelligente in cantiere l'opera da 80 milioni e poi politica in basso Abruzzo Civico sceglie Cassone sarà il nuovo coordinatore regionale e poi ambiente il forum dell'acqua denuncia allarme rosso per gli inceneritori in Abruzzo proseguiamo siamo alla pagina dell'economia una provincia di paperoni e straccioni la classifica dei comuni in base al reddito medio dei cittadini in testa Teramo Fano Adriano e Giuliano vedete questa pagina proprio dedicata ai paperoni e non solo della provincia di Teramo siamo proprio a Teramo Teramo città il cantiere del corso accordo fatto con i negozianti il corso chiude un lato alla volta e poi vedete quest'altra pagina che parla sempre della chiusura del centro l'edicola va spostata altrove la soprintendenza blocca il traslogo all'interno dell'edificio dell'arca proseguiamo premiati gli studenti del Gran Sasso e la Laguna scuola e lavoro dopo il gemellaggio con Venezia l'istituto per il turismo di poppa pensa già al Trentino vedete le foto della premiazione la sbarra al Mazzini reintroduce il privilegio siamo ancora a Teramo con la scusa degli stalli per donatori e dializzati la ASL ripristina un'area di sosta riservata al secondo lotto ancora avanti siamo alla pagina della provincia isola del Gran Sasso padre violento allontanato dal magistrato e poi economia anche la vallata del Fino chiede di diventare area di crisi in basso Sant'Egidio alla vibrata gli studenti imparano come salvarsi in mare ancora isola del Gran Sasso l'eremo ce lo sistemiamo noi fedeli cittadini preoccupati per lo stato di Santa Maria a Pagliara quasi crollata durante il sisma del 2009 Tortoreto con Trada Salino ricorre al Tar contro il depuratore questo è il titolo principale che abbiamo visto in prima pagina nuove famiglie chiedono il rispetto della distanza di sicurezza dell'impianto del Ruzzo dalle loro abitazioni e poi politica nuove dimissioni in arrivo a sconvolgere gli equilibri siamo a Tortoreto il dissidente di Febo verso l'addio al suo posto subentrerebbe Palombieri vicino alla Ricchi andiamo ancora avanti pagina della Val Vibrata muore il consulente dell'incidente aereo Ingegner Cisio Carollo colpito da un malore nel suo studio bergamasco ora ci sarà da affidare il nuovo incarico Martinsicuro cronaca la banda del buco svuota la sala slot del Grillo e poi altre notizie Alba Adriatica distrugge due auto davanti ad un bar senza alcun motivo ancora Martinsicuro senza patente scappa al posto di blocco è stato denunciato e poi Ancarano oggi doppio summit per fare il punto sull'incendio della Italpanelli proseguiamo scusate siamo alla pagina di Giulianova Mosciano titolo principale riguarda proprio la firma di questa intesa per la nuova caserma dei carabinieri a Giulianova la regione mette sul piatto solo un milione e mezzo per l'opera di Via di Vittorio turismo dopo la bandiera verde Giulianova punta a quella blu politica a chiedere le dimissioni di Mastromauro è diventato una moda c'è questa richiesta del Movimento 5 Stelle e poi Trivelle Sinistra Ecologia e Libertà attacca il Partito Democratico per aver respinto la proposta di Arboretti andiamo ancora avanti Roseto Pineto Atrisilvi e partiamo da Roseto il Borsacchio affidato ad un'associazione la Giunta decide di affidarne la gestione nonostante il commissariamento poi il Comune ha intitolato una piazza alla Guardia Costiera e poi turismo amministratori e bagnatori in emissione per promuovere Silvi e Pineto siamo alla pagina della cultura Izzo chiude la prosa della Riccitelli oggi e domani in scena la commedia di Salemme Cocciolito preoccupato per il futuro e siamo arrivati alla pagina che riguarda lo sport in questo caso sulla città di Teramo si parla di Teramo Calcio per rotta fissa il nuovo obiettivo che è la Team Cup il difensore centrale del Teramo serve l'ottavo posto per qualificarci alla competizione e andiamo a vedere le pagine dello sport del centro e del messaggero partiamo dal quotidiano il centro si parla del Pescara in questa prima pagina di sport regionale Campagnaro altro stop fuori fino ai playoff il Pescara venerdì ad Avellino senza tifosi la trasferta è stata vietata e poi in basso Assemblea dei Soci per tirare fuori i soldi si fanno i nomi di Zampacorta D'Angelo Antonio e Brocco come nuovi dirigenti Lanciano Virtus sconti per i tifosi e si rivede Di Francesco sabato al Biondi contro Lentella potrebbe rientrare il figlio d'arte non ci sarà vasto l'ha squalificato uno dei fedelissimi di Maraiulo a proposito di Serie B ieri sera si è giocato il posticipo dinanzi a 30.000 spettatori 0 a 0 fra Bari e Cesena un risultato che fa sicuramente comodo al Pescara vediamo infatti la classifica che vede la formazione Bianca Azzurra in zona playoff comunque con Bari e Cesena che hanno mosso di poco la classifica ci sono quattro squadre a 54 punti Novara Spezia Cesena e Bari poi Trapani 53 Pescara 52 oggi ci sarà la conferenza stampa di Massimo Oddo il Teramo del ritorno a una marcia in più i Biancorossi stanno viaggiando ad un ritmo da zona playoff ora l'obiettivo è l'ottavo posto per disputare la Team Cup della prossima stagione noi a proposito di Teramo ascoltiamo il difensore Perrotta è stato un episodio brutto perché comunque ancora stavo esultando e riprendere il gol così è stata davvero una beffa perché fino a quel momento avevamo preso un tiro in porta e quindi io personalmente sono molto deluso perché comunque avevamo preso pochissimi gol e prendere il gol così mi fa veramente arrabbiare i miei compagni mi aiutano comunque mi danno una grossa mano anche a non sbagliare quindi mi sto trovando bene a mio agio non sto avendo nessun tipo di problema credo di essere maturato tanto anche con l'aiuto del mister quest'anno perché diciamo abbiamo cambiato un po' modulo dall'anno scorso siamo più un 4-4-2 e quindi mi sto trovando molto bene comunque se andiamo a vedere le partite inizio anno e andiamo a vedere le partite di ora credo che ognuno di noi sappia fare meglio il proprio ruolo quindi dobbiamo ringraziare solo lo staff per questo perché comunque ci aiuta a crescere per magari per un futuro diciamo migliore per tutta la squadra il mister è molto comunque fissato sulle palle inattive infatti cambiamo sempre ne cambiamo tantissime abbiamo circa 30-40 non lo so a parte dipende se loro come si mettono a zona uomo cambiamo di schema in schema fino a giugno penso a giocare nel terreno perché ci sono ancora altre partite da giocare e noi dobbiamo comunque raggiungere l'ottavo posto per arrivare in team cup l'anno prossimo per noi è un obiettivo importante perché stanno abbiamo fatto credo una bellissima figura in team cup e quindi diciamo vogliamo ripeterci l'anno prossimo poi andrò in vacanza con calma e poi si vedrà nel futuro ancora non parlo con nessuno non parlo con la società ma io mi sento bene a Teramo e quindi voglio finire la stagione qui e poi si vedrà ancora a Lega Pro parliamo dell'Aquila la ricetta del direttore sportivo Battisti l'Aquila bisogna avere fame per salvarsi e siamo alla serie D Marino il chieti a limiti è immaturo per i playoff lo dice il tecnico neroverde proprio Marino dopo il pareggio di Giulianova un 3 a 3 che non ha soddisfatto né i neroverdi né i giallorossi e poi calcio di eccellenza San Buceto è ben servito ad Anzivino io la scelgono Centofanti che debutterà contro la capolista Bastese siamo all'ultima pagina di sport che riguarda il basket il roseto riflette sul K.O. chieti spazio ai giovani parliamo della serie A2 gli squali sempre in lotta playoff ma a Ferrara avvio di gara pessimo la Proger rinnova la sponsorizzazione dopo la salvezza delle furie teatine poi ciclismo Fortin firma la prima gioia dell'Europa Ovini formazione abruzzese ottimo il risultato ottenuto in Slovenia e noi siamo alle pagine dello sport del messaggero prima di chiudere la prima pagina riguarda il Pescara e anche sul messaggero c'è questo titolo che riguarda Campagnano il rischio del lungo stop l'ecografia evidenzia l'esistenza di una lesione al polpaccio che potrebbe tenere l'argentino fuori a causa fuori causa almeno per un mese asse di mercato con la Juventus sulla Padula Caprari Vitale e Gans mentre Sebastiani è pronto ad offrire il prolungamento ad Oddo Cimorosi mai più un rosetto così brutto si parla di basket abbiamo visto anche dal centro ancora basket Galli coach del Chieti brava proger ma ora voglio finire bene seconda pagina di sport il Lanciano chiama a raccolta i tifosi per la sfida di sabato con Lentella Teramo per Rotta dobbiamo rialzarci lo abbiamo appena ascoltato L'Aquida al Bivio cinque finali per la salvezza Serie D il San Nicolo crede ancora nei playoff di Felice dice la Miternina non si arrende e poi calcio a cinque questa sera derby tra Pescara e Acqua e Sapone derby di alta classifica Serie D Marino Chieti pensa solo a salvarti in fretta si parla si parla dell'Avezzano il presidente Pari surla Avezzano ora voglio cinque vittorie poi San Buceto terzo esonero via Ansivino arriva Centofanti in basso ancora eccellenza Colavitto tecnico della Vastese che dice la squadra è viva e saprà gestire il vantaggio dunque con questa notizia che riguarda il calcio di eccellenza della Vastese prima in classifica noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 grazie come sempre per averci seguito vi rinnovo all'appuntamento il prossimo con l'informazione come sempre alle 14 con la prima edizione del TG6 grazie e buon proseguimento di giornata a tutti grazie a tutti